Musica Dopo Gesù ci ammonisce su quali mezzi per far borsalato. Non portate borsa né bisaccia né sandali. E' una lezione continua per tutti perché spesso siamo preoccupati della mancanza di soldi che ci sembra impedire il facile diffondersi del Regno di Dio. Ma il Regno di Dio non è legato a mezzi umani. Non è che i mezzi umani non siano necessari, però non sono i soldi a portare al Regno di Dio. I soldi vengono se portiamo il Regno di Dio. Se portiamo il Regno di Dio nello spirito di povertà, allora ci verranno anche i denari per l'uso necessario. Musica 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 Musica